Tragedia nel mondo della musica, un famoso cantante del Festival di Sanremo ci ha lasciati. Scopri chi è e l'omaggio commovente del fratello celebre. Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie! Nelle ultime ore il Festival di Sanremo è stato colpito da una triste notizia. È scomparso un illustre cantante che ha partecipato al Festival della Canzone Italiana. Si tratta infatti di Giorgio Bennato, il noto musicista napoletano di 74 anni, fratello minore dei celebri cantautori Eugenio ed Edoardo Bennato. Sebbene abbia scelto il nome di Giorgio Zito utilizzando il cognome della madre, Giorgio ha contribuito fin da giovane al trio Bennato, suonando diversi strumenti musicali e trovando la sua strada specifica come tecnico del suono. Ha avuto anche esperienze da solista e con formazioni come il gruppo Rottiso, con una partecipazione al Festival di Sanremo nel 1980. A differenza dei suoi fratelli Eugenio ed Edoardo, diventati celebri con il cognome del padre, Carlo Bennato, Giorgio ha scelto un percorso diverso, presentandosi nel panorama musicale italiano con il cognome Zito, quello della madre Adele. La notizia della sua morte è stata comunicata dal fratello Eugenio Bennato attraverso un post commovente su Facebook. Facci sapere nei commenti se anche tu ti ricordavi di questo famoso musicista oppure conoscevi il più noto fratello Edoardo. Vediamo chi ha ancora una buona memoria. Grazie a tutti.